ben tornati al nostro processo alla regata qui in banchina rolex capri sailing week giornata finale abbiamo una carrellata di ospiti ve li presento subito walter pizzoli è l'armatore di angelo trasparente suon 45 abbiamo saputo da pochi minuti che ha vinto la regata quindi scusate se è poco grazie walter poi abbiamo costanzo vuotto che è il direttore sportivo dello yacht club capri quindi una sorta di padrone di casa ieri abbiamo avuto anche altri yacht club rappresentati e poi insomma volti che ben conoscete voi di seili tv ma un po tutti i nostri ascoltatori rufo lorenzo bressani che era su mela suon 42 e e roberto spata che invece era su cippa lippa rossa un car 40 che è stata un po una delle grandi novità di questa edizione della rolex capri sailing week insieme a tante altre novità perché l'avete visto è stata un'edizione un po di grande rinnovamento allora cominciamo dall'armatore che ha vinto walter pizzoli come è stata questa settimana di capri come se l'aspettava lei viene con una doppia diciamo un doppio tesseramento yacht club de monaco monte carlo e yacht club sanremo quindi insomma viene da 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 lontano yacht club tra cui quello più alto del mondo cortina eccolo la cortina benissimo allora ci racconti come è stata questa settimana è molto appassionante soprattutto il primo giorno di regatta c'era molto vento 22 27 nodi è stata molto dura ma a me piace quando è dura gli altri giorni sono stati in calo ma sempre molto molto belli molto com'è la storia di un armatore come si ha scelto lo suon 42 la france è difficile difficile dirlo prima sono un armatore di cinque barche di un jay 70 di una smeralda di uno suon 45 di un one tonner resolute salmon e di un'altra barca classica che è emilia avete capito allora che walter pizzoli praticamente da solo è lo 0,5 del pill della vela italiana insomma perché tra circoli velici e barche c'ha tutto lui ma questa è questa è anche passione però non esageriamo è nata nell'arco degli ultimi tre anni grazie a un grandissimo amico ad alberto miani che mi ha spinto a portare la barca a monaco a sanremo e a iniziare a fare regate benissimo abbiamo un amico comune perché ad alberto è un grande amico anche mio costanzo che bello essere direttore sportivo dello yacht club capri oggi con stiamo praticamente già facendo i titoli di coda bilancio estremamente positivo di questa capri rolex capri sailing week assolutamente sì siamo stati particolarmente fortunati con il tempo che ha consentito soprattutto nella prima giornata condizioni di vento è abbastanza estremo ma piacevoli divertenti quindi per un organizzatore avere il vento avere il tempo che ci aiuta insomma è fondamentale oltre ovviamente alla collaborazione di tanti soci tanti amici il porto turistico ci ha consentito una sistemazione decente ad adeguata a quelli che sono il numero delle barche senti costanzo capri è stata sempre una delle location culto della vela italiana come tutte le cose ci sono periodi di alta e di magra adesso possiamo dire che ricomincia un ciclo assolutamente sì abbiamo dei numeri importanti anche compatibili con il nostro porto perché naturalmente oltre questo sarà difficile poter arrivarci ma comunque abbiamo rinverdito i fasti degli anni precedenti in cui c'erano mondiali ms con partecipazioni barche insomma anche in numero consistente e quindi futuro sarà questo cioè trovare il modo di poter andare sempre avanti non più indietro benissimo e effettivamente la misura una delle misure del successo della rolex capri sailing week 2017 nuovo corso nuovo ciclo che si apre è anche nei volti dei protagonisti abbiamo visto in banchina tantissimi grandi personaggi della vela un paio ce li abbiamo qui come ieri l'abbiamo già avuti allora lorenzo bressani che si barcamena tra classe olimpica catamarana una gradicia 7 infiniti numero di titoli mondiali vinti in tante classi e tante regate anche in altura questa capri sailing week by rolex dal tuo punto di vista da bordo di mela questo suon 42 come è stata super emozionante da tanti anni che non veniva capri capri un po la leggenda del poco vento abbiamo aspettato le due per la termichetta non c'è mai vento è l'onda dei reali scafie invece quest'anno abbiamo avuto una settimana bellissima perché abbiamo trovato dai 25 28 nodi il primo giorno ai 12 15 di ieri oggi la capri un po classica 8 nodi un po d'onda per cui i valori in campo realmente sono venuti fuori sia dei velisti che delle barca questa striscia diciamo si chiama processo alla regata quindi facciamo pure un po di sforzo polemico in qualche modo comunque apriamo qualche discussione secondo te che fai anche vela olimpica cosa manca ancora un po alla vela d'altura c'è il solito discorso che non si sa chi ha vinto perché ci sono i tempi compensati come è anche la regata da dentro tra le boe cioè ci sono tanti volti della vela ma poi alla fine sono regate vere? beh chiaramente il one design che sia classi olimpiche o altura one design paro di mages 32 tp far 40 quant'altro personalmente è un altro fascino chiaramente tagliare la riva dopo un minuto sapere se sei davanti o dietro è un gusto che ti dà impossibile da ripetere nelle classi a rating è vero che il rating deve esistere perché ci sono questa regata qui c'è la giraglia ci sono tante altre regate per cui deve esistere una formula che raggruppi tutte queste barche parlavo appena con Provini dicevo perché la coppa da Re a Palma dopo 10 minuti dell'arrivo abbiamo le classifiche in mare via radio e invece qua dopo tre ore siamo ancora a battere il tendone e cercare di capire come siamo arrivati sono dei problemi tecnici cercheremo di arrivarci ecco da velista e professionista in queste classi sprono gli organizzatori comitati a fare più possibile per riuscire a dare le classifiche in mare dopo le singole prove perché io in primis ma stesso mio armatore il gusto di tagliare la riva e dopo almeno già cinque minuti sapere siamo andati male siamo andati bene è una cosa che forse gli organizzatori sottovalutano ma è molto molto importante giustissimo la classifica in mare forse sarà una quasi un'utopia però insomma diciamo che posso spezzare una lancia in favore degli organizzatori perché oggi per esempio le classifiche una mezz'oretta dopo il rientro anche meno già c'erano so che tu ancora non le hai lette però ti hanno detto che ci sono sono affisse allora Roberto Spata cippalippa rossa è una delle barche sotto osservazione a questa Rolex Capri Sailing Week non solo per questo colore rosso ma perché è una novità il Care 40 questo scafo molto veloce dici che barca è prima di tutto e come l'avete insomma come l'avete domata a cominciare dal vento forte di questi giorni beh domata non l'abbiamo ancora domata insomma ci stiamo lavorando noi siamo arrivati a questa regata abbiamo fatto solo tre giorni di test di allenamento poi siamo andati direttamente a fare la tre golfi che abbiamo vinto tra l'altro per cui qua chiaramente il battesimo dei bastoni prima giornata 27 nodi non è stato facile poi dall'altra parte magari trovarsi con poco vento e onda insomma la barca è una barca molto veloce viene dal circuito dei Fast 40 in Inghilterra è una barca molto critica bisogna curarla in continuazione e continuamente regolarla l'equipaggio è stato molto bravo insomma stiamo facendo un gran lavoro per cercare di capire il prima possibile la barca infatti abbiamo fatto qualche prova buona qualcun'altra un pochettino meno il nostro motore Guido Paolo a volere una barca di questo genere è un mito per cui insomma ci stiamo lavorando e arriveremo anche noi sentite Guido Paolo Camucci con questa barca vuole fare anche molto offshore credo di capire come faceva anche la vecchia Cippalippa beh la dimensione è più piccola è una barca molto spartana le lunghe sono molto più dure da fare le medie diciamo sì le medie esatto faremo credo il 151 anzi sicuramente faremo la 151 prossimamente con questa barca poi dopo faremo bastoni per cui faremo il Gavitello faremo il campionato europeo IRC e probabilmente Palma la Coppa del Re allora ultima domanda al volo per tutti e quattro così salutiamo chi ci segue per questa puntata siamo a 10 giorni dalla Coppa America c'è la 35esima America's Cup alle Berbuda che sta per iniziare con delle barche che più che barche sono aeroplani voglio sapere da tutti voi cosa pensate di questa America's Cup sui catamarani con i foil e le vele rigide a Lari le wing sail cominciamo da Costanzo V8 per me al momento è solo un fatto televisivo e molto mediatico perché sono divertenti velocissimi ma non è più vera secondo me la vecchia Coppa America è quella che ci ha entusiasmati insomma per me quella rimane la vera vela il nostro armatore Vartel Pizzoli che arma tante barche per tanti circoli cosa ne pensa? non sono più barche a vela sono degli aeroplani e quindi conta molto il tecnicismo e la preparazione lo studio e poco vento ecco il vento se lo creano loro 2 a 0 per ora perde la Coppa America la nuova Coppa America perde 2 a 0 sentiamo il lato velisti invece del divano cosa ne pensa? Rufo che tra un po' volerai sui foil pure te sul nagra forse? la risposta è se visto che tu fai televisione penso a quanta televisione ha comprato i diritti della Coppa America nel 2007 e ora per vedere la Coppa America devi pagare il pay card su internet questo ti fa capire quanto interesse c'è intorno a questa Coppa America quindi molto poco è una Coppa America che non rispecchia la vela nel mondo per cui chi ha la fortuna di partecipare si diverte ma non è un'evoluzione delle barche che vendiamo nei porti o comunque fanno i circuiti d'altura o classe olimpica è una cosa a sé che vive in un mondo a sé che credo non riuscirà mai a collidere con la vela realistica che viviamo tutti quanti noi opinione sottolino che viene da un velista che la Coppa l'ha vista da dentro perché l'ha fatta Roberto a te la parola finale sai siamo in un'era la direzione è quella velocità, velocità, foil abbiamo visto su internet ho visto dei foil messi sull'Optimist per cui si andrà lì forse la Coppa ci è arrivata un po' troppo presto secondo me perché secondo me la risposta, la gente non è ancora pronta a sentire, a vedere le barche barche tipologie di regata soprattutto in quella maniera sicuramente era più affascinante vedere i regatanti che si ammazzavano a furia di virate, strambate cosa che questi match non si vedono più la Coppa America è un match race però la direzione è quella mediaticamente è un flop, nel senso mi assumo le responsabilità l'ho saputo da te adesso che fra dieci giorni inizia bravo per dire qualcosa mediaticamente è un flop proprio per questo motivo immediatamente lo è per tu quindi insomma Coppa America diciamo bocciata dalle voci di dentro a questa Rolex Capri Sane Week hanno bocciato la Coppa America promossa invece a pienissimi voti la Rolex Capri Sane Week questo era il processo alla regata, parte terza altri ne eseguiranno, state con noi grazie a Costanzo Vuotto, Walter Pizzoli, Lorenzo Rufo Bressani e Roberto Spata alla prossima